Ragazzi, oggi sarò in live alle 18.30 sul sito Viola, ma attenzione perché probabilmente riuscirò a fare anche doppia stream, quindi seguitemi alle 6.30 e poi vi aggiorno. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi ragazzuoli andremo a giocare Bardock LF e mi direte, macchine, è un videotroll? Oppure mostriamo un po' di affetto al povero Bardock? No ragazzi, perché vi posso garantire che questo personaggio ha finalmente un team top tier ed è anche molto forte al suo interno. Lo giocheremo nel classico doppio 17, che sì lo so ragazzuoli, ve lo sto spammando, ma è la coppia del meta e insieme questi due fanno rinascere qualsiasi personaggio. Quindi è anche divertente vedere unit definite bidoni fino a qualche settimana fa essere così forti in top 100. I gameplay che vedrete saranno presi dalla live per due motivi, uno oggi purtroppo poco tempo per registrare, due ieri ho fatto una scalata in live dalla top 500 circa fino alla 100, praticamente perdendo forse 2 o 3 e solo una con Bardock. Il resto full win con performance eccezionali. Per farvi capire mi gira meglio questo team con Bardock che con Gogeta come terzo. Gli equipaggiamenti sono corretti? L'importante è avere il suo platino farmato, mi raccomando. Detto questo, godetevi il Bardock Corso nazionale che finalmente ha un po' di gloria. Uè, vedi? Metti Bardock e Shimano Parpo. Certo, con Gogeta 14, però, potete vedere in qualsiasi live, è poco storto. A 5 Stelle c'è poco da fare, non mi fa nulla, tipo. Ma tutti i personaggi, non è Gogeta, è tutti i personaggi che essere in più non vanno bene sotto le stelle rosse. Oh, vai là? Aspetta, è molto purple. Oddio, questo è il timing crawler che va in mid e continua. Ci siamo, ci siamo. Adesso glielo copio, aspettate. Vabbè, non switching, vabbè, almeno sono coperto. Mamma mia, sto scherzando? Ok, al Groz, buonasera. Stai in ritardo, al Groz. Blue Boys? No. Vabbè, giusto, giusto, giusto. Giusto, giusto, giustissimo. Prendi della special in bocca. No, è neutro, è vero. Grazie, bro. Devi switchare. Oh. Ne ammazziamo uno? Ne ammazziamo uno? Oppure non lo ammazziamo? Intanto, la prima semi-LF è andata. No, non lo ammazziamo, ok? Un 40 cover, chi lo sa. Però calmi, perché c'è ancora 17. Calmi, calmi. Calmiamoci. L'LF è andata, manca solo una win. L'LF è andata, manca solo una win. Allora. Questa potrebbe essere... Poteva essere ancora più complicata con un rosè dentro, però senza la rosè all'interno, secondo me, ti può vincere. E' andata la malissima da 21 prima. Ma guarda, la usano con... Fammi indovinare, doppio 17, solito team. Eh sì, è fortina lì dentro. Fortina è fortina. Allora. San Zamasu non prende danni, come sempre. Ormai... No. Prima lui ha fatto. Ehi. Ehi, ehi là. Sta verde quasi me la voglio tenere per l'antendurance, però ci vuole ancora un po' troppo per le sfere. Intanto aspettiamo, mettiamo lui. Ho paura di resign rush nei primi 10 secondi di gioco. Sta capitando un po' troppo spesso. No. 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 Vabbè. Non fa niente. Ci vuole troppo. Abbiamo il ligeggio attivo. Andiamo. E non avere però l'antendurance di congirazione sin rush è un po' appesa. Devo dirvi, un po' appesa. Schiva subito qui. No. Sì. Verde? No. Sì, è il vanishing. Schiva, bro. Ok, verde, eccola. Ce l'abbiamo. Eh, mi serve buona verde. Ma perché, ma perché il parkour non si pesca la verde? Oh, eccola. Però non si... Non la potete mettere prima, tipo. No, niente swipe, niente punto schiamativo. Fino stanco. Ma sei mobile! Eh, vabbè. Deserved. Allora. Calma. Non è perso. Non è perso. Dobbiamo solo calmarci. Ah, il bro mi lave il key, questo coso è inutile. Ok. Ok. Ah, 97 non sa quanto basti. Oh, invece... Invece... Questo ragazzo non è il king dei clash come gli altri. Mi fa piacere. Proviamoci. Sicuramente Zamasu questa me la tanka, me la mangia, però... Se prendo un timing? Però se prendo un timing, che succede? Che succede? Che panno e muore? Ecco che succede. Bene. Bene. Doppia... Doppia... No, 6K! 6K! Era una doppia stuccata, 6K! Neanche... Neanche ma pescavo la strike. Nulla. Schifato? No. F. F, era un bel PV. Tra poco switcherà Trunks e giallo. A quel punto abbiamo abbassato l'anticover. Quindi mettiamo un attimo lui. No, fammi fare doppio swipe. Vabbè, fino a quando sto così, neanche Resing Rush mi dirà. Fino a quando sto così, sto bene. Live fino alle 8 e mezza penso. 8 e mezza... No, 9 è un po' troppo. 8 e mezza penso. Oh! Può Resing Rush, qualcosa. Niente, sta fermo. Mamma mia, quanto tanka. E' bello che io sto... E sta poco fermo sta, è assurdo. Non si muove. Cioè ho cambiato tipo 4 volte i timing. Stavo sempre immobile. Vabbè. Però si può vincere. Dobbiamo solo calmarci. Ah, questa farà molto male. Eh, eh. No! Le mettiamo lui. Questo è Resing Rush. Questo è Resing Rush. Però forse... No, vabbè, non so se me la tanka. Io non vedo... Io non vedo una verde da quanto? Da quanto è che non vedo una verde, ragazzi? Pensiamo da tanto tempo. Da troppo tempo. Da troppo tempo che io non vedevo verdi. No, dai. Non ci credo. Ma che fa? Ho fatto... Adesso vincere questo e vincere time-up, tipo. Ok, a me ho l'Endurance con Bardock, va bene. No, ma non ci... Ancora il Vanish? Quante volte? Ma quante volte? Ma sono in serio? GG. Mi sa che è andata sto game. Aspettate, facciamo così. Uno. Due. Voglio full curarmi. Voglio full curarmi. Aspettate. Quanto sei sempre immobile. Basta. Aspettate. Cioè, guarda... Non esiste i miei danni. Vediamo. 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 Ok. Realmente il drop dell'ultima era voluto per l'Anti-Endurance, ragazzi. Spera, spera, spera. Forse, forse, forse... Per 8 secondi. Come l'ammazzo? Come l'ammazzo, 8 secondi? Mi ha fatto più danni lui, sono sicuro. Sono sicurissimo. Mi ha fatto più danni lui, sono sicuro. 26 milioni. GG. Anzi, alcune volte è ancora fastidioso. Allora. Bene. Non facciamo subito male. Mi sa che non si spara. Ok. Vabbè, classico del movie. Abbiamo su 17, va? È un incubo da farmare. Sì, è vero anche da rirollare. Cioè, sicuramente... Ci... Ci butterei tipo 400 gomme. Non c'ho proprio voglia. Vediamo, Bardoccone. Gogeta? No. Pan? No. Gogeta. Ok. Lo subisco con lui, se non è a me tra. Ok. Ho fatto ugualmente male. Bene. Andiamo. Andiamo. Vabbè. Che faccio? Dai, tirami sta cosa, dai. Sì, sì, tirami. Tira. Voglio una beta special in testa. In capoccia, ora. Bravo. Mi piace. Com'è la roba del clash? Eh, questa è un po' difficile. Vabbè, mettiamolo e siamo sicuri. Conché ho lui in rotazione, sto sempre sicuro. Aia. Questa potrebbe far male. Allora, so che... Panda però non è mai entrata. Quindi, in teoria, Panda adesso non ha il colore neutro, vero? Non mi ricordo. No, penso che non sia mai entrata, Panda. Scusate, ma non è mai entrata, Panda. No, però non è morta. Combo compensation è schifosa. Never mind, never mind. Ma se non c'è solito il clash in game, eh, vince il no. Diciamo che... Far apparire i flash è parte della beta. Devo essere io a farlo. Madre mia. Mi devi la piena vita così? Dimmi di no. Dimmi di no. Ma te ne ho la sfera. Non voglio rischiare, non voglio rischiare. No, dovrò rischiare, dovrò rischiare. Oh, ok. Ti l'ho rotta, comunque. Bello, mi sa che... No, forse non è morto. Le stelle lo salveranno. Eh sì, eh sì. Quasi scammata. Tirammi la strike. Tirammi la strike, ti prego. Strike. No. Ci ho provato. Dammi la verde, giochino. Eh. Eh. Ok. Mamma mia, bardoccone. Mi fai gasare con questi danni. 990. Allora, devo far apparire i flash dove fai 990. È un po' difficile questa betta, effettivamente. Mi sa che il no vince in scioltezza. Vediamo. Vai, clash ora. No, ho vinto. Vabbè. Ci ho provato. Che farò una mini sorta di sparring. No, ragazzi. Sto scherzando. Non mi flammate. Però bardocc è quasi dimensione onorevoli. È carino. Ma che danni sto facendo? Vabbè, non mi interessa, dai. No, fai partire, c'è il blast. Vabbè, ma ti avevo risposto. Sì, non spammare. Però sennò va di nulla. Sky, ho detto bardoc maggiore truggeta. Eccomi. Allora. A 100 counts mancano ancora 50. Mancano ancora 50. Ma sì, ma si può fare. Oh, bello questo timing. Si droppa ora. No, perché non è droppato? L'ho droppata, gioco. Mi tiene una special così mi fulgo il gauge, no? Va bene. Madre mia. MVP sei bello. Luca, c'hai gli stucchi che sono maledetti oggi. Mi spiace. Per curiosità, quanti ne hai in totale? No, no. Non so perché non stai nella classifica. Che è quella sopra, in teoria. Ah, è settimanale. Eh, bro, devi... Devi andare in top 1. No, guarda, guarda, stai 17. Stai fermo. Quanto manca? 20 secondi e posso tirare sin gracia? A parte che, boh, cioè, non lo tiro mai contro questo team. Mi prendo un attimo l'anticover, eh? Un secondo. Dai, dai. Bello. No. Ma non si sentiva il saltello? Sono io sordo. Ho l'anticover, ho l'anticover, ho l'anticover. Ho l'anticover. No. Non sta dietro. Ho paura che... Che 17... Vabbè, ma in realtà io posso anche... V... Facciamo così, dai. No, cavolo. Va bene, va bene. Allora. Eh, diventa un po'... Diventa quasi... Pericolosa questa citazione. No, non posso tirare la special. No. Sbagliato tutto. Qua sbagliato tutto. Calmi. Non trolliamola. Non trolliamola. Non trolliamola. Allora. Nel mentre... La beta è fatta. Quindi mi manca solo vincere. Ok. Mi manca solo vincere. Domani 20 sub. Bro. Se sei un folle... Se sei un folle, sì. Però guarda, mi ricordo di te che... La prima stream non so quanti... Non lo so, una follia. Ecco perché c'hai l'emoji della train. Un toro finale. Vabbè, in realtà qua sono coperto. Perché ho l'endurance anche con Bardock. Quindi. Che vuol dire questo? Che posso mettere... In cover. In tranquillità. Sì, è l'anti-cover. Ti prendo una carta. Ma a me non gli interessa. Solo che non c'ho più anti-endurance per la mazzarezza Masu. Non ho più le ultimate. Sono messo un po' male sotto questo aspetto. Oh, basta. TV? No. Io mi sa che il resign crash lo tiro uguale. Oh, un clash, ragazzi. Neanche avrei fatto un 990. Sì, sì, il resign crash lo tiro uguale, dai. Sì, 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 sì. Il resign crash lo tiro uguale, ragazzi. Non mi interessa. Ok. Meglio, meglio. Per quale motivo? Perché sennò non toglievo più quella vita. Davvero. Non lo toglievo più. Eh, non ce la stavo più facendo. Ok? Ok. No, ma dai, ma provare la verde in questa situazione. Ragazzi, mi sa che me la perdiamo. Questo netto presentimento. Questo orrendo presentimento che me la perdiamo. Però forse... Siamo vivi? Dai, hai finito le carte. No, come entrare lui. C'è pure la Blast in mano. C'è pure la blast in mano. C'è pure la blast in mano. Bro, fai sto clash. No, non posso schivare. Mamma mia, per fortuna. Deve avvenire il clash pazzo con Bardock. Deve avvenire il clash pazzo con Bardock, ragazzi. Ok. E' ormai. Si conbecca o non si conbecca? Lo scopriamo gli end. No, ma ha sbagliato. Oddio. 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 Ha sbagliato due volte. Mamma mia, Bardock, quanto sei forte. Mamma mia, quanto sei forte. Quanto sei forte.